La nuvola fantastica che Goku riceve dall'eremita della tartaruga. Basta chiamarla per farsi trasportare ovunque ad altissima velocità. Ma può salirci solo chi ha lo cuore puro. Nella prima parte della storia aveva un ruolo importante, che viene a mancare quando i personaggi imparano a volare. Nel manga di Dragon Ball, la nuvola è stata chiamata 25 volte da Goku, una volta da Karin e una volta dall'eremita della tartaruga. E nell'anime Dragon Ball Z, Gohan chiama la nuvola d'oro alcune volte all'inizio della saga di Mayimbu. Nella perfetta edition del manga Dragon Ball, è presente la scena in cui Ub vola sulla nuvola. I personaggi che sono riusciti a salire sulla nuvola sono... Goku Gohan La sirenetta Lance Kiki Uta Arale I fratelli Gacchan La donna con i pesi da palestra E Uub Nell'anime Dragon Ball Z, anche Goten usa la nuvola. Puglia I I I I Grazie a tutti.